Mi piacere, sono un ragazzo un po' agitato. Mi chiamo Andrea Maria, di nuovo è Rea di cognome, di nuovo è Andrea Maria, di cognome è Rea. Signore, sono il più vecchio carcerato in Italia, sono il più vecchio carcerato in Italia, dal 84, dall'84. Sono un bastante da Polino, io sono un bastante da Polino, porto qui il numero, numero 7457, come c'è un po' la tutela che è alle 8. Sono stati in carcere, l'OPG, tutti i carceri sono stati a San Vittore, a Ucciardone, a Porto Azzurro, a San Vittore, a Rebiba, a Regina Celi, tutti i carceri. Mi dicono che sono un criminale, poi dico no, questo non è criminale, questo è incapace di volere, è giro da carcere e l'OPG, carcere e l'OPG. Non c'è un reato, non c'è un reato, l'84, non ho fatto nessun reato, mi hanno accusato, un reato che l'ho fatto, io l'ho fatto io. Di cosa l'hanno ucciso? Di aver ucciso una donna che l'hanno ucciso, mi ho toccato a Roma. Ah, ucciso? Mi ho toccato nessuno.